Con le lacrime della madrina Nicola Angelozzi, giovane attrice catenese, si è concluso il Catania Film Fest XIII edizione. Poco prima era stata la vulcanica Guia Ielo a infiammare la platea della Sala Verde di Zoo Centro Cultura Contemporanea che ha ospitato la cerimonia. Oltre a contribuire alla produzione del festival con una performance davvero toccante con cui ha deciso di accogliere il premio alla carriera che le è stato consegnato. Premio Miglio al Film non me l'aspettavo assolutamente come le cose più belle sono inaspettate. Ho detto una frase da Baci Perugina però è vero. Non ce l'aspettavamo, non me l'aspettavo. Ringrazio tutto lo staff del Catania Film Festival, la giuria ma soprattutto la mia troupe. Perché comunque il cinema è e sarà sempre un lavoro collettivo quindi in qualche modo io sono una rappresentanza, sono un membro di un ingranaggio che ha funzionato bene e di questo ringrazio tutti quanti. Il documentario racconta il viaggio di tre ragazzi sordi all'interno delle Deaflympics che sono le Olimpiadi per sordi in quanto appunto i sordi non rientrano in questo momento nelle Paralimpiadi. È diciamo un quadro di questo evento e rappresenta appunto la vita quotidiana che avviene alle Deaflympics. Il mio intento nel raccontare questo documentario è sicuramente mostrare innanzitutto come lo sport possa essere un elemento per la strutturazione del sé, quindi per la formazione del carattere di una persona e in particolare in questo caso per la strutturazione di un'identità e in questo film si parla di identità e soprattutto di identità sorda. Ci sono diverse tipologie di sordità e cerchiamo di dimostrare come con molta naturalezza o anche con delle discrepanze queste poi si vanno a incontrare in un evento sportivo quale appunto quello delle Deaflympics. Quindi possiamo Н spoilerare come con le comun apoi in una者 estroitturazione delentesionale. Intensate voi scresi come понимate!